o perché voglio benvenuti in kiwi bella a tutti ragazzi a ogni stentrate discutibili ogni volta allora buongiorno bentornati dal vostro kiwi oggi a come avete letto dal titolo andremo a fare un unboxing l'unboxing di cosa l'unboxing di della nuova attrezzatura che userò su questo canale proprio per voi anche soprattutto per voi per farvi avere una visuale diciamo migliore e un audio migliore anziché stonarvi le orecchie come sto facendo adesso è l'ultima volta promesso e quindi andremo a fare questo unboxing che ho fatto durante il l'amazon prime dei quindi ho trovato veramente delle offerte direi che se non c'era costa mano prendere probabilmente non li avrei mai comprate probabilmente e quindi perché ne ho trovato un buon prezzo sinceramente quindi fate affidamento al prime dei non è uno sponsor perché non mi sembra nessuno magari chiedeva di sponsorizzare ma io sono qui e quindi e oggi faremo questo unboxing e andremo a vedere dove ho buttato i soldi oggi ho buttato non proprio buttato perché li ho spesi per voi li ho spesi per voi per una migliore esperienza in questi video quindi io prendo l'attrezzatura e voi mi potete ringraziare con un iscriviti la campanellina un like un condividi e un mi piace e un commento dai ragazzi dai e fatemi crescere un va bene ragazzi mi fido di voi raga fatemi crescere il namo 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 zi namo commentate il video commentate ragazzi quindi per prima cosa andiamo ad aprire il pacchetto più piccolo ok andiamo a vedere una bustina a vedere a ecco vedi questa questa è la il lettore di di memorie di memory card il lettore di memory card perché io ci avevo già uno cinese però nove volte su dieci non funzionava non mi registrava la pennetta e quindi di quelli sei che compri dal cinese a 2 euro euro e quindi detto no non non si può fare anche perché ho già un paio di volte quando ho messo quello il computer mi diceva vuoi formattare la memoria dopo che ho girato il video no 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 guarda ho detto guarda lasciamo così e me lo prendo da prendi ecco fatto andiamo a vedere ecco vedi che semplice vedi poi ci metti la la memoria grande poi ci metti la micro sd e poi e qual usb dal computer è questa che questa credo si credo sia per trasferire i dati dal com dal telefono dallo smartphone direttamente qua sopra se ci metti una memoria interna una memoria card qua buono ora arriva il pezzo forte ragazzi che non so nemmeno quale dei due sia andiamo andiamo il primo il paccone amazon non è uno sponsor magari lo fosse perché rudy non usi delle forbici e perché sono deficiente con questa io credo credo uscirebbero come qualità visiva molto meglio credo è poi andiamo ad aprire vediamo questo ragazzo è il braccio perché c'è pure il braccio il braccio direzionabile telecomando vedi ho due batterie buono buono questo è il microfono che poi andremo a vedere dopo puoi fare un video con questo e con un'altra cosa che ho comprato se come qualità va bene è il microfono integrato alla videocamera cioè integrato il microfono che già danno già in dotazione con la videocamera è un tipo un para ombra diciamo quello che si mette sull'obiettivo per fargli ombra da troppo sole magari se c'è troppa luce e andiamo a vedere vedi proprio con la sua custodia oh ecco qua la telecamera a post full ht io spero spero che faccia video migliori di questo telefono credo proprio di sì eh sinceramente no diciamo che ho avuto ho trovato delle buone offerte e ho detto oh sai che ti dico dato che morte si è messa a fare cose su youtube ora ho mai più e quindi ho detto va beh senza che ti dico l'offerta c'è la volontà pure andiamo avanti prendiamole va l'ultimo pacco che mi è arrivato però teoricamente in quello doveva esserci pure un'altra cosa spero ci sia in questo allora esattamente c'è qua dentro meno male la micro sd per la per la telecamera eh 128 giga si legge ok ah 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 due e ragazzi signori il microfono il microfono ragazzi ho avuto parecchie persone che l'hanno usato e mi dicono che è fantastico per quello che l'ho pagato per quello che costa e da tenere testa mi hanno detto che da tenere testa alle nelle più grandi marche per quello che per come funziona per come lavora diciamo che riesce a tenere testa anche alle grandi marche di microfoni quindi ragazzi ho fatto un ottimo a fare questo mi dovrà dare tante soddisfazioni e poi me lo direte voi se l'audio è migliore rispetto a questo telefono ok ragazzi curioso di vedere oh vedi oh questo è proprio tutto il libretto minchia raga cioè questa sta proprio vedi come sta cosa si vede proprio la messo come si deve proprio la professionalità vedi vedi questi sono proprio la sull'intervento il microfono da il microfono io lo chiamo paracoso e il microfono ah questo sta proprio vedi una cosa di elastico beh si questo è il microfono prova 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 non è collegato sto solo giocando ok ragazzi quindi al prossimo video vi faccio vedere lo noterete da soli come la qualità di tutta sta tutto questo ambaradam che ho comprato dal Prime Day ah io vi devo far vedere la fotocamera la videocamera montata però ragazzi ecco qua la videocamera sembra quasi professionale sembra eh questo è il braccetto che serve per ridurre gli i tremoli diciamo se la tieni in mano magari può tremare invece se la tieni così è già un po' più fluido la visuale eh eccola eccola e io spero sia sia migliore di un telefono credo lo sia quindi ragazzi ora la metto a caricare e il prossimo video che andrò a pubblicare che sia un video reaction video commenti o quant'altro tutti i prossimi video che andrò a pubblicare li farò con questo bel aggeggino eh ragazzi ovviamente insieme al al microfonino insieme a sto bel microfono se lo riesco a prendere insieme a questo a quest'altro bel aggeggio diciamo questi vanno sono insieme diciamo questo è Goku e questo è Vegeta o viceversa Goku e Vegeta la fusione insieme fanno sì che esce un video decente molto più decente di questo di un telefono ok ragazzi quindi ragazzi mi raccomando io mi sto attrezzando per far sì che questi video escono migliori ok voi però iscrivetevi al canale ragazzi iscrivetevi al canale mettete like attivate la campanellina commentate i video qua sotto e condividete fateli vedere ai vostri amici a tutti a chi vi pare insomma e fateli con me ok ragazzi bella raga ci vediamo al prossimo video reaction o commenti quello che mi pare credo sia un video reaction bella raga ciao belli a chi a chi a chi a chi a chi a chi Grazie a tutti.